Sabato 13 dicembre 2014, Giovanna Laura Adriani, direttore artistico della Galleria Mentana di Firenze, inaugura la 14esima edizione della rassegna Valori di Continuità. Una rassegna che vede in esposizione circa 20 artisti, che poi ci verranno presentati nominativamente da Paola Neri, che ha preso ora la parola. All'altro mio lato vedete la direttrice artistica della Galleria Laura Adriani, fra poco ci raggiungerà anche la dottoressa Daniela Pronestic, che presenterà ai nostri telespedatori gli artisti che da oggi fino al prossimo 10 gennaio troverete non solo qua, venendo nella sede storica della Galleria Mentana in Piazza Mentana a Firenze, ma anche nella seconda sede espositiva. Sì, la mostra si svolge in due location, la Galleria Mentana e lo spazio espositivo così da noi chiamato, che è in Residence, porta il Prato. E quindi oggi inauguriamo la mostra qui e gli stessi artisti hanno un'opera a testa nello spazio. Entrambe le mostre chiuderanno il 10 gennaio. 10 gennaio si concludono le due mostre, sì. Benissimo, possiamo cogliere l'occasione per fare gli auguri a nostri telespedatori da parte della Galleria Mentana? Certamente, tanti auguri a tutti e vi aspettiamo per il nostro calendario che è venuto prezioso e bellissimo quest'anno e che regaleremo a tutti i visitatori. Bene, ora sarà Paola Neri a presentarlo perché orgogliosamente lo sfoggia e lo propone ai nostri telespedatori. Il calendario è una piacevole abitudine ormai alla quale ha abituato gli artisti e i visitatori la Galleria Mentana. Buonasera a tutti, sì, orgogliosamente perché in copertina sia di calendario che nell'invito abbiamo scelto un'opera del maestro Antonio Cicconi ed è un ritratto di Giovanna Laura Adriani. Gli artisti presenti in mostra sono 28, di cui 24 le opere sono riprodotte nel calendario e i loro nomi sono Lorenzo Romani che è una nuova acquisizione della Galleria, Maria Zaslascaia e Elena Prisciamova sono le due artiste giovanissime russe che hanno già fatto altre esposizioni presso di noi. Poi abbiamo anche nomi di maestri noti come Salvatore Magazzini, Giampaolo Talani, Sergio Benvenuti e altri che sono con noi da diversi anni come Marlène Horn, Angela Odiberbe-Ltramo, che è la nostra scultrice di origine italiana che vive in Francia, Bianca Vivarelli, Alina Dettori, artista sarda, Francesca Coli, Clara Polvani, Francesco Gibertoni-Barca, Monica Pignat, Rolf Onn, scultore marito di Marlène Horn, Annie Gheri, altri maestri del Novecento come Antonio Corpora ed Emilio Tadini, un artista contemporaneo molto conosciuto nel milanese a Leandro Fernandez di origine peruviana, un'altra nuova acquisizione, un giovane artista promettente Alessandro Mattia Mazzoleni e a seguire il fotografo, art photographer Gennady Epopic, giovane artista russa, anche lei, nuova new enter della galleria Anastasia Caccialova, artista di origine italiana, vive in Germania, Gerry Ceglia, Luigi De Giovanni, ormai presenza consolidata nella galleria insieme a Rosario Bellanti e a Franco Lastraioli e un altro grande del Novecento Mario Schifano e lo scultore Vittorio Tessari. Un bel menù natalizio. Direi che abbiamo fatto un buon mixer. Un buon mixer. Allora ora ci penserà ovviamente da per su la dottoressa Daniela Pronestia all'approfondimento critico che credo stimolerà ancora di più i nostri telespettatori a venire a visitare la mostra che vi ricordiamo, anzi entrambe le sedie espositive, ricordiamo anche l'indirizzo del Residence di Porta al Prato e via Ponte alle Mosse al numero 16 in prossimità della stazione Leopolda di Porta al Prato, ovviamente a Firenze. Entrambe le sedie espositive saranno aperte in questi orari. Allora intanto fino al 10 di gennaio e gli orari di galleria sono al solito dalle 11 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 19, esclusa la domenica e lunedì mattina. Presso la Hall del Residence di Porta al Prato chiaramente gli orari sono continuati e basta suonare un campanello. Con noi Ziv Cooper, artista che ha vissuto tra l'America, la Germania, che adesso vive in Israele, con noi anche Giulia che ci aiuterà per la traduzione perché Ziv parla inglese. Ziv, i lavori che hai scelto di presentare qui alla Galleria Mentana raccontano il paesaggio italiano, le bellezze italiane. Mi ha iniziato a studiare architettura e si è interessato particolarmente all'architettura urbana e quindi grazie ai suoi studi ha avuto possibilità di viaggiare in tutta l'Europa e si è innamorato particolarmente dell'Italia, delle di Venezia ad esempio cerca di rappresentare l'armonia dei colori, soprattutto sulle luci, ad esempio le strade di Roma, i romanticismi. La sua appunto passione è quella di riprendere l'architettura urbana e di cercare di trasferire all'osservatore esattamente la sensazione che lui ha avuto nel momento in cui ha avuto questa impressione, questa percezione che poi appunto ripinge. In mostra alla Galleria Mentana per valori di continuità Alessandro Mattia Mazzoleni, un giovane artista torinese fondatore della Cardboard Art, ovvero l'arte del cartone, quindi un materiale che è parte del nostro quotidiano che diventa in questo caso supporto artistico ma anche elemento espressivo che serve al giovane Mazzoleni per indagare le vie dell'astrazione, le vie dell'arte informale, arrivando ad una sintesi espressiva di grande impatto, di grande forza. Un artista molto giovane, neanche trentenne, che ha già però riscosso molto consenso da parte dei collezionisti, da parte dei illustri critici d'arte come Filippo D'Averio e che ha già esposto in numerose città italiane e all'estero. Il prossimo 17 gennaio Mazzoleni sarà in mostra alla Galleria Mentana per una personale che ci permetterà di conoscere più da vicino la sua ricerca artistica. Gerry Ceglia è un artista italo-americano, perlomeno i suoi genitori erano italiani della provincia di Napoli, emigrati in America ed è in America che lui è nato per poi trasferirsi in Europa, in particolar modo in Germania, dove attualmente vive. Gerry mi spiegava questa tecnica che lui ha messo a punto, una tecnica particolare più che altro per le ragioni che l'hanno ispirata, perché lui ha qualche difficoltà, problema, insomma, a riconoscere i colori e di conseguenza usa realizzare il disegno e sugli effetti chiaroscurali creati dalla matita interviene poi in seconda battuta aggiungendo il colore. Inizia i suoi lavori prima appunto definendo i suoi lavori usando la graffite, quindi la matita, da quella morbida a quella comunque più dura e dopodiché appunto per questa sua difficoltà nel stabilire i colori, solamente dopo aver fissato la graffite iniziale ricrea un nuovo strato appunto utilizzando il colore e in questo modo le differenze chiarosculari risaltano grazie appunto alla graffite al primo strato più il colore utilizzato sopra e infine appunto aggiunge l'acrilico nero per appunto completare l'opera. Lorenzo Romani è una giovane artista ferrarese, ha la sua prima esperienza espositiva qui a Firenze. Lorenzo tu mi spiegavi che questi dipinti, questi lavori che hanno la città come soggetto principale in realtà non vogliono parlare della città ma la città diventa un pretesto, un'occasione per fare ricerca e quindi per unire alla figurazione tradizionale il collage di fotografie che tu realizzi e poi applichi sulla tela ma anche un uso libero del colore quindi sganciato da un'ifinalità descrittiva. Appunto realizzo queste vedute urbane con tecniche differenti, olio su tela e dopodiché attacco con la colla dei frammenti fotografici per creare un contrasto tra una più tradizionale tecnica pittorica a una via più moderna e così fare un insieme di tecniche che mi consente di esprimermi al meglio. Con noi il consigliere regionale Eugenio Gianni che poc'anzi mi mostrava la lista degli eventi a cui è stato presente oggi e di quelli a cui sarà presente da qui a poco e anche questo devo dire consigliere è un po' un merito che le va riconosciuto essere sempre presente per Firenze, la Firenze della cultura, la Firenze dell'arte ma non solo e la sua presenza stasera qui alla Galleria Mentana che è una galleria storica di Firenze ne è anche la riprova. Sì la Galleria Mentana guidata da Laura Adriani e da un bel pool di collaboratrici rappresenta un punto di riferimento sul piano dell'arte contemporanea ma devo dire che oggi si presenta con un appuntamento d'eccezione perché vi sono artisti che lavorano da tempo per Laura Adriani e che sono conosciuti ma contemporaneamente in un alternarsi di colori e di tele vi sono anche i giovani talenti che questa gallerista scopre, spesso promuove e che poi magari ci ritroviamo fra gli artisti più conosciuti. La Galleria Mentana è da sempre un po' un punto di riferimento, un motore culturale a Firenze sul piano dell'arte figurativa ma negli ultimi tempi sta mostrando sempre maggiore vivacità con artisti che non sono solo italiani ma invece vengono dall'estero e accompagnano un'attività che è quella della Firenze che vuol promuovere non solo l'arte di ieri ma l'arte di oggi. Laura Adriani è persona che sotto questo aspetto ci sa davvero fare, crea relazioni, reti, rapporti e quindi gli artisti fanno a gara venire qua. L'appuntamento di fine anno è la collettiva che sublima in qualche modo il lavoro di tutto un anno offrendo a ciascuno la possibilità di esporre una propria opera quindi un appuntamento immancabile a Firenze. Con noi Rolf Horn, artista tedesco che collabora da anni con la Galleria Mentana e che però stasera ha annunciato che questa è l'ultima mostra in Italia quindi è un addio, noi speriamo un arrivederci all'Italia e non un addio definitivo ma al di là di questo Rolf che ovviamente resta una tua scelta, io vorrei parlare con te di scultura, vorrei parlare di questo rapporto speciale che tu hai con un materiale, con una materia direi meglio, il legno che ci rimanda ad una dimensione originaria, antica della scultura. La scultura lo sappiamo è cambiata molto nel corso della sua storia e allora io ti chiedo qual è l'emozione che oggi un artista come te, uno scultore come te può provare scolpendo il legno? Questo è molto facile, anni fa Malena mia moglie ha vinto il premio di Firenze, io ero geloso perché io mai ho vinto un premio, io ero acquarellista così io devo cambiare la moglie o il soggetto dell'arte, così ho cominciato di fare sculture con legno di olivo, noi abbiamo un olivetto, 500 piante di olivo, oggi io non voglio parlare del lavoro, solo del piacere, una volta io voglio bruciare un legno e il legno ha detto Rolf no, non mi brucia, ho detto va bene che cosa facciamo? il legno vuole che io faccia una bella scultura, le vuole che io posso rianimare il morto legno, così ho capito che il legno vuole dire e quando tu puoi vedere questo legno, questo legno ha minimo 100 o 200 anni e quando tu puoi toccare, per favore tocca, vai, vai, facciamo un interview, ok, è soft come il popò di un piccolo bambino, ma questo vuole molto lavoro e questo è un metaforo, questo si chiama la sorgente della vita, il sorgente è una bella pupa di una donna, quando la pupa va bene, tu hai ragazzi? Ok, quando tu hai ragazzi, loro hanno bisogno di una pupa per il latte, quando la moglie va bene, quando la mamma va bene, quando la pupa va bene, il latte va bene, e questo è la sorgente della vita. Tu ci dici che il legno è una materia viva e come tale va rispettato? Sì, esattamente, tu puoi spiegare meglio come io. Una volta si ha parlato con Michelangelo, come tu fai, lui ha detto molto facile, qui è un marmo e io voglio, come si dice, liberare la forma che c'è dentro. Dimmi in italiano, io non posso dire. Liberare la forma che c'è già dentro. Io faccio lo stesso, è molto facile. Marlene Horn, moglie di Rolf Horn, che è qui con noi per supportarci eventualmente nella traduzione, perché Marlene parla abbastanza bene l'italiano, ma c'è evidentemente e comprensibilmente anche qualche dubbio. Marlene, anche tu sei, anche per te questa mostra è una delle tante realizzate qui in Italia, realizzate qui alla Galleria Mentana e il tuo bagaglio artistico si contraddistingue per questa raffinata lavorazione sul vetro, quindi tu dipingi sul vetro, scegli il vetro come tuo supporto. E ti servi di questa tecnica per dare forma ad un immaginario che spesso sconfina nel sogno, direi anche nella poesia, perché ci sono sempre queste figure femminili che danzano e che così facendo innalzano il loro inno alla vita. Io ti pingo, fiave, su vetro, questo è il segreto, la tecnica spesso.